Voto unanime dalla Giunta per portare in Consiglio Comunale una delibera per salvare HCS. Sì, intanto questa delibera che porteremo in Consiglio Comunale è stato il frutto di un approfondimento, di un confronto serrato all'interno della maggioranza. Non abbiamo lasciato nulla al caso, eravamo di fronte a un video, il video era quello del fallimento della società con tutto quello che ne consegue, chiaramente, perché il fallimento della società sarebbe stata anche una sconfitta per l'amministrazione comunale e invece il risanamento della società in continuità aziendale tentando di coniugare quelle che sono le esigenze legate ai livelli occupazionali, così in questo modo non si dovrebbe perdere nessun posto di lavoro. Con il diritto dei cittadini di avere un servizio efficiente, perché qui il servizio è sotto gli occhi di tutti, oggi per una serie di ragioni non è efficiente come dovrebbe. In più, io dico anche che il mantenimento pubblico della società per certi versi rimane, perché le politiche, a partire da quella tariffaria, rimangono in capo alla società madre, che viene incrementata dal patrimonio di Civitevecchia Infrastrutture, perché mettendoci dentro delle risorse dentro Civitevecchia Infrastrutture, questo dimostra che c'è la volontà da parte dell'amministrazione comunale di salvare la società e di non farla fallire. Questo mi sembra una cosa importante. Inoltre aggiungo che noi crediamo molto anche nel tavolo regionale, che tra l'altro è stato richiesto da Gino De Pauris, che è il nostro esponente. Il tavolo regionale può consentire almeno due cose, di portare ulteriori risorse verso il buon esito del percorso che abbiamo intrapreso e di appianare anche i dissidi sindacali che io giudico assolutamente superabili. Un tavolo regionale che arriverà prima o dopo il Consiglio Comunale, secondo lei? Se arriva prima del Consiglio Comunale è meglio, ovviamente. È meglio perché nel Consiglio Comunale potremmo portare ulteriori elementi che deriveranno dal tavolo. Se arriva dopo, io credo che arrivi prima. C'è l'impegno da parte del nostro Consigliere, ma anche del Sindaco. Fortunatamente oggi abbiamo un canale privilegiato nei confronti della regione. Abbiamo preso atto la disponibilità del nostro assessore che si è messo a disposizione. Chiaramente qui c'è un punto chiaro che va detto, cioè se tutti i comuni del Lazio portano i loro problemi delle partecipate al tavolo regionale diventa un problema. Diciamo che in questo modo, forse perché siamo arrivati primi, siamo un po' privilegiati sotto questo aspetto. Io mi auspico molto dal tavolo regionale, mi aspetto molto.